Che vuoi? Romina Power fa un disperato appello che riguarda Albano Carrisi, e Colo Lo cantante americana ha pubblicato un post sui social che riguarda lex marito. Ieri mattina a Storie Italiane la conduttrice Eleonora Daniele ha dovuto affrontare una particolare situazione durante la messa in onda della puntata Infatti inaspettatamente, ha ricevuto prima la chiamata di Albano, senza giri parole, il cantante ha affermato che tra lui e Loredana è tutto finito Successivamente, è arrivata la chiamata della Leciso che ha continuato a ribadire di voler bene Albano Carrisi come padre dei suoi figli. Lex e Finaf ha cercato in vano un confronto, ma il maestro non lo ha voluto concedere, chiudendo la chiamata Dopo qualche minuto ha telefonato nuovamente alla presentatrice spiegando altre motivazioni in base alle quali, almeno per il momento, non vuole sentire la sua ex compagna nemmeno via telefono Questa situazione ha scosso molto anche cancelletto Romina Power che ha deciso di esporre il suo punto di vista Quest'ultima è stata più volte menzionata dall'ex marito che, più volte, ha ribadito a storie italiane che non sarebbe lei la causa della sua rottura con la Salentina Romina pubblica un post e dopo qualche ora lo cancella. Romina forse in un momento di rabbia, ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio molto forte che, dopo qualche ora, è stato prontamente cancellato Lo cantante ha affermato che tutte queste trasmissioni che parlano di cancelletto gossip stanno giocando davvero col fuoco, facendo infuriare il carisi Se quello che è successo avrà delle conseguenze negative sulla sua salute, li riterrà tutti responsabili, ha tonato la Power. Infine, ha scritto di finirla di speculare sulla loro vita privata Affermazioni davvero forti in difesa del cantautore, ma per quale motivo poi ha deciso di eliminare il post? L'appello social della cantante statunitense Dopo qualche ora la stessa Power ha pubblicato un altro post sul suo profilo Instagram e leggendo le sue parole, può essere considerato come un vero e proprio disperato appello in favore dell'ex marito Ecco cosa ha scritto, per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fesse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da spennare Ve lo chiedo col cuore in mano. Grazie Parole molto significative che sono state apprezzate dai numerosi followers della cantante statunitense. Per ulteriori informazioni su questa vicenda e sulla storica coppia, vi consigliamo di cliccare il tasto segui canale gossip posto sopra questarticolo.